arrivo che monto il microfono, è il momento, qui andiamo un po' stasera un po', allora partiamo con queste registrazioni, 1, 2 e 3 carissimi amici e amiche, bentornati, siamo ad una nuova puntata del Catechismo di San Pio X un ciclo di catechesi come chi li segue lo saprà, a me è particolarmente gradito perché è davvero sempre molto bello ascoltare la chiarezza e la sintesi della dottrina cattolica espressa da questo testo, fatto da un grande santo, con l'intento di fornire a tutti, perché questo era il Catechismo che si studiava per fare i sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi per dare delle basi solide e chiare alla nostra fede, a me intanto mi arriva qualche mail, uno è arrivato nei giorni scorsi dove qualcuno mi dice ma io ho 80 anni, mi ricordo ancora il Catechismo benissimo, mi ricordo perché ci ha creato Dio, ci ha creato per conoscerla, amare servire in questa vita e goderlo nell'altra, quindi questo a mio avviso è un altro tesoro perduto, troppo fettolosamente facendosi prendere un po' troppo dalle scienze o dalle conquiste o pseudo conquiste moderne, oppure dalle solite frasi un po' è affetto, non possiamo fare la scuola, il Catechismo, bisogna favorire l'incontro con il Signore, l'esperienza della comunità, tutte queste cose qui e come diceva il caro Cardinal Petrocchi, così abbiamo perso l'uno e l'altro, nel senso che il Catechismo non si sa più, tutte queste cose un po' sentimentali, le empiriche non ci stanno, ecco il risultato che purtroppo i ragazzini arrivano a fare comunione e cresima che qualcuno si pensa, come ho già detto in qualche circostanza, che le persone da Santissima Trinità siano quattro, il Padre, il Figlio, lo Spirito e il Santo. Ecco, quindi, vabbè, terminate queste, come dire, introduzioni agroamare, chiamiamole un po' così, passiamo ad oggi. Abbiamo cominciato una volta scorsa l'analisi del Primo Comandamento prendendo uno per uno i termini del numero 170, cioè impietà, superstizione, irreligiosità, apostasia, eresia, dubbio volontario e ignoranza colpevole delle verità di fede, cercando di capire a quali fattispecie, specifiche di peccati facessero riferimento. La formazione sui dieci comandamenti è molto importante perché i dieci comandamenti sono la magna carta della vita cristiana, cioè quando saremo morti sicuramente ci troveremo davanti il test di esame sui dieci comandamenti, più quelli dei doveri del nostro Stato, questo è sicuro, più varie ed eventuali che sono le altre cose, insomma, che fanno da corollare nella vita cristiana, come poi andremo vedendo. Quindi riprendiamo, perché il Primo Comandamento è ancora lungo, perché poco confessate le colpe contro il Primo Comandamento, ma è il più importante di tutti perché è il primo, sono disposti in ordine gerarchico, è quello che diciamo struttura fondamentalmente il nostro rapporto con Dio, la virtù connessa con la cardinale della giustizia che è appunto la religione, quindi è importantissimo conoscerlo e soprattutto osservarlo. Vediamo il numero 171 che è lapidario, che cos'è empietà? Empietà è il rifiuto a Dio di ogni culto. L'empio, la Sagra Scrittura è piena del termine esempio, che etimologicamente dal latino significa non pio. L'essere pi è una cosa buona, o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria, diciamo al termine della salvo regina, no? memorare piissime Jesu, Gesù era piissimo, la Madonna era o clemens o pia. Chi è l'uomo pio? L'uomo che rende a Dio il culto che gli è dovuto. Che culto gli è dovuto? A Dio gli è dovuto il culto di latria, cioè il culto di adorazione che si esprime sia attraverso la lode, quindi la bocca. Offri a Dio un sacrificio di lode, chi offre il sacrificio di lode questi mi onora. Quindi con la bocca si dice al Signore come nel gloria, in un'apparizione la Madonna ha detto che era la preghiera preferita. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio re del cielo, tu sei solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Questa è l'essere pi con la voce, quindi dare a Dio le lodi, le adorazioni, le esaltazioni che gli sono dovute. Ti esalterò Signore perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato trionfare nemici. Uno. Due, con i gesti del corpo. Per esempio quando si dice gloria al Padre non tutti sanno che si china la testa in segno di riverenza. Un tempo la liturgia, per esempio durante il credo, la liturgia in vedo sordo, la venerabile liturgia in vedo sordo, alle parole per opera dello Spirito Santo si è incarnato, c'era il gesto dell'adorazione, così come durante la lettura dell'ultimo Vangelo et verbum caro factum est, via, tutti in ginocchio. Cose importantissime, molto più importanti di quanto pensiamo. Durante la messa, sempre vedo se era più il tempo che stava in ginocchio di quelli che stava in piedi seduti. È giusto che sia così. E poi c'è l'altra adorazione importantissima, che è l'adorazione nella vita. Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Si legge nella lettere romane, capitolo 12, credo. Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio e aggiunge, è questo il vostro culto spirituale. Adorare Dio in spirito e verità, dice Gesù nel Vangelo, nel discorso con la Samaritana. Quindi il corpo, il corpo. Adorare Dio, offrire i nostri corpi, corpi non soltanto inteso come corporetano, ma le nostre persone, il culto in spirito, tutta la nostra vita è un atto di culto al Signore. Come? Per esempio, anche offrendo il nostro corpo in sacrificio. Una materia diventata un pochino obsoleta da parte di più di qualcuno è la penitenza cristiana, che invece è importantissima. Se faccio una veglia, offro a Dio il sacrificio del mio corpo, del dedicare del tempo, del soffrire un po' a protrarre abbastanza il tempo della preghiera. Il lavoro fatto in obbedienza a Dio, le disavventure della vita. E poi la cosa più importante, l'adorazione esistenziale di Dio e dei Suoi disegni, l'accettazione serena della Sua volontà, dei travagli della vita, delle croci, delle tribolazioni, delle angosce, delle persecuzioni, delle diffamazioni, tutto quello che vogliamo. Questo è l'uomo pio. Quindi, è certo che Gesù è piissimo, è certo che la Madonna è pia, perché queste cose non prendono evidentemente lezioni da nessuno e le danno a tutti. Ora, dopo aver detto che cosa era in pietà, cominciamo subito a andare a vedere quali sono i peccati che si oppongono, quali sono i corollari, quindi quando una persona non rende culto a Dio, che cosa fa? Allora, o diventa superstizioso, oppure addirittura diventa irreligioso, quindi commette dei peccati formalmente e direttamente contrarie alla virtù di religione. E in particolare, andiamo a vedere il 172 che parla della superstizione, dice che cos'è la superstizione? La superstizione è il culto divino o dilatria reso a chi non è Dio, o anche a Dio, ma in modo non conveniente. Perciò l'idolatria o il culto di false divinità e di creature, il ricorso al demonio, agli spiriti e ad ogni mezzo sospetto per ottenere cose umanamente impossibili, l'uso di cose, l'uso di riti sconvenienti, vani o proibiti dalla Chiesa. Anche qui dobbiamo scendere un pochino nel dettaglio, no? Anzitutto facciamo proprio un'analisi dettagliata. La superstizione è anzitutto il culto divino di dilatria reso a chi non è Dio. Noi non pieghiamo le ginocchia dinanzi a nessuno, le ginocchia sia del corpo che del cuore. Non pieghiamo né le ginocchia né la testa dinanzi a niente e a nessuno se non sono dinanzi a Dio solo. Non ci si prostra dinanzi ad altri dei. La terza tentazione di Gesù nel deserto, no? Ci sono purtroppo oggi e me addirittura gli adoratori di Satana, gente che ha completamente perso il senno, oltre che tante altre cose. Ci sono gli adoratori degli idoli del mondo. Il più grande adorato è il denaro oggi, in forza del quale si fa tutto, no? Poi c'è l'idolatria o il culto di false divinità e di creature. Noi adoriamo soltanto la Santissima Trinità, non adoriamo idoli, non adoriamo nessun'altra forma di divinità con la scusa del dialogo interreligioso, cose di questo genere qui. Niente. Il culto di idolatria è dovuto a Dio solo. Poi ci sono una serie di pratiche, purtroppo oggi molto diffuso, che è ricorso sia al demonio sia agli spiriti, sia ogni mezzo sospetto per ottenere cose umanamente impossibili. È quello che va ampiamente, diciamo così, sotto il termine di magia. Quindi, dentro queste forme rientra, innanzitutto, sapete che c'è gente che va da chi pratica la magia nera a fare del male al prossimo, no? E questo non è un gioco. Perché ci sono, leggete i libri degli esorcisti, io ne ho lette tante, molte cause di possessione diabolica dipendono da queste cose qui. Cioè c'è qualcuno che va da uno spiritista, da un satanista, che conosce la materia, per infliggere un maleficio, per fare la fattura. Io ricordo, la prima volta che leggevo queste cose, quando ero giovane, dico, ma che dico, ma stiamo nel 2000, nel 2000, perché insomma, un po' prima del 2000, dico, ancora stiamo dietro a queste cose, mi facevano un pochino sorridere. Cioè, che ti ha fatto la fattura? Che ti ha fatto il maleficio addirittura? Il maleficio. Mi sono dovuto ampiamente ricredere, non soltanto per le letture teoriche di gente insomma che lavorava nel campo, ma perché poi in tanti tanti anni di sacerdozio mi sono imbattuto anche in situazioni di questo genere. E sono più che reali, purtroppo. Anche quando si va non a fare del male al prossimo, ma a cercare di bucare i misteri voluti da Dio, ci sono tante cose brutte che oggi circolano. Per esempio, le sedute spiritiche, l'invocazione dei morti, oppure il cercare di forzare, ecco, quando riti sconvenienti, vani o proibili dalla Chiesa. Pensiamo per esempio alle scritture automatiche con cui si cerca in qualche modo di evocare i morti, oppure il medium, quello che ti mette in contatto con l'aldilà. Addirittura c'è la negromanzia, quindi nella Bibbia è quello che fece Saul per invocare lo spirito di Samuele quando stava ormai sull'orlo della disperazione. I tarocchi, gli oroscopi, quindi andare a cercare, vede tutte quante le cose che appartengono al mondo di Dio, perché il futuro appartiene a Dio. L'aldilà appartiene a Dio e sono cose che Dio vuole che noi ne stiamo fuori. Sono cose che Lui ci ha, come dire, blindato in questa vita. E noi non dobbiamo andare a sfondare, a cercare di sfondare forzatamente questi mondi utilizzando le arti magiche. È una cosa gravissima e ci si espone a dei pericoli grandissimi. Quindi da tutte queste cose bisogna stare lontane come dalla peste bubonica, perché sono oltre che gravemente peccaminose, anche altamente pericolose. Perché quando ci si imbatte in qualcuno di questi personaggi o c'è la possibilità di incontrare il cosiddetto ciarlatano, quindi quello che ti spilla un sacco di soldi e ti vende gli amuleti e cose di questo genere che sono, come dire, una sorta di aria fritta, perché è un ciarlatano. Non è buono a fare queste cose, ma chi pratica realmente la magia nera o anche la magia bianca, che non deve essere praticata lo stesso come la cosiddetta magia nera, ti va a far mettere nei guai. Questi riti sconvenienti vanno approbiti dalla Chiesa. Avrete sentito dire, per esempio, che nei paesi, specialmente nei paesi, c'erano le donne anziane che andavano e te toglievano il malocchio, facevano degli intrugli strani, con qualche sostanza, te le mettevano in testa per togliere il malocchio. Ecco, quindi diciamo, ma togli il malocchio, quindi è una cosa buona. No, non è una cosa buona, d'accordo? Se un malocchio fosse diagnosticato, vatti a fare benedire da un sacerdote, oppure vatti a fare, se c'è bisogno, una preghiera o un esorcismo dall'esorcista autorizzato dal vescovo e questi sono i mezzi, non queste stranezze, non queste cose strane. C'è da stare lontano da questa roba qui. Io mi raccomando, come sacerdote, perché con questi mondi non si gioca, non si scherza, no? Le carte, sono tante cose da confessare, questi tanti peccati mortali, questi qui, non sono sciocchezze. Ecco. Quindi noi, vedete, a volte il nostro Signore, che succede? Ti manda un profeta e ti rivela il futuro. Ti manda il mistico o la mistica di turno, si pensi per esempio a una Natuzza Evolo, o una Maria Sim, gente che stava in contatto con le anime del purgatorio. Allora, però, un conto che Dio ti manda un dono gratuito, con cui, entro certi limiti, ti mette in contatto con un mondo che ti appartiene. Un conto che te lo dà Lui, un conto che te lo vai a prendere tu, con la forza. Le scritture automatiche, i medium, o cose di questo genere. È completamente diverso. Perché quello è il mondo che appartiene a Dio, per cui se Dio non vuole fare in maniera circostanziata, dono alla creatura, è liberissimo di farlo. Ma se Dio questo non lo fa, tu non sei il padrone di andartelo a prendere. Spero di essere stato chiaro insomma al riguardo. Il famoso film che terrorizzò mezzo mondo negli anni 70, famosissimo, l'esorcista di William Franklin. Chi l'ha visto, se ha fatto caso, la possessione diabolica di quella bambina che poi assume delle caratteristiche terrificanti, certamente quello è un film, quindi alcune cose sono oltremodo caricate. Ma si vede benissimo che nel sotterraneo, diciamo così, nel rustico della casa, ci aveva un cartellone e faceva le sedute spiritiche. Dice che giocava a evocare i morti con Capitan Gaio. Il messaggio che sta dando il film è che la seduta spiritica è stata la causa della possessione diabolica. Quindi non si scherza con queste cose. Non sono giochetti passatempi divertenti. Stiamano alla larga perché quando si entra in contatto con questo mondo poi sono guai. Andiamo al 173. Che cos'è l'irreligiosità? Peccato gravissimo anche questo qui. L'irreligiosità è l'irriverenza a Dio e alle cose divine. Come? La tentazione di Dio. Il sacrilegio o profanazione di persona o di cosa sacra. La simonia o compravendita di cose spirituali o connesse con le cose spirituali. Allora, anche qui dobbiamo fermarci un po'. Allora, anzitutto, il rivelenza a Dio e alle cose divine. Abbiamo mai confessato i peccati di irriverenza a Dio e alle cose divine? A Dio è dovuto tutta la rivelenza di questo mondo. Facciamo un pochino di esempi più facili, gli atti esterni di rivelenza. Questo è il catechismo, quindi faccio proprio il catechismo. Questo vale per i sacerdoti, vale anche per i laici. Quando in una chiesa si passa davanti all'altare, se il Santissimo Sacramento non sta dietro l'altare, all'altare si fa come gesto l'inchino profondo, perché l'altare rappresenta Cristo ed è una cosa sacra. Non posso passare di lungo davanti all'altare come se niente fosse. Quando si passa davanti al Santissimo Sacramento si fa la genuflessione, non si fa l'inchino al Santissimo Sacramento. Oggi c'è questa moda che davanti al Santissimo Sacramento non si fa più la genuflessione, ma si fa l'inchino. No, l'inchino si fa davanti all'altare, perché l'inchino profondo, secondo il linguaggio liturgico della Chiesa, viene fatto alle cose divine, quindi a ciò che rappresenta il Signore. Ma nel tabernacolo non c'è una cosa divina che rappresenta Dio stesso e a Dio non si fa l'inchino profondo. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo sulla terra e sotto terra, davanti a Dio si fa la genuflessione. Quando il Santissimo Sacramento è esposto, io le dico queste cose perché non tutti le sanno, il Santissimo Sacramento che è esposto pubblicamente, ci sono due accortezze da osservare. Primo, che quando si passa davanti non si fa la genuflessione a una gamba sola. La genuflessione a una gamba sola si fa sempre poggiando a terra il ginocchio della gamba destra, non della gamba sinistra. Ma si fa la genuflessione a due ginocchia, quindi si prima piega la gamba destra, poi si affianca la gamba sinistra, quindi si sta su entrambe le ginocchia e stando in ginocchiato in quel modo si fa l'inchino profondo. Due ginocchia a inchino profondo, quando il Santissimo Sacramento è esposto. E attenzione, un'altra cosa molto importante. E quando il Santissimo Sacramento è esposto non bisogna dargli le spalle per nessun motivo. Quindi supponiamo che la Chiesa abbia tre navate, no? Io vado a fare l'adorazione del Santissimo esposto, che stava ovviamente nella navata centrale, dopodiché per uscire prendo la navata di destra o di sinistra. In quel caso io posso uscire voltandomi perché non sto dando le spalle direttamente al Santissimo Sacramento perché sta nella navata centrale. Ma se io esco dalla Chiesa, dalla navata centrale, io non posso girarmi e andarmene. Capite? Cioè, amici cari, se esco dalla navata centrale vorrà dire che farò il passo del gambero, quindi esco a marcia indietro. Solo quando il Santissimo è esposto si fanno queste cose. È chiaro che per uscire dalla Chiesa che c'è stato al tabernacolo si possono dare le spalle al tabernacolo perché è chiuso. Ma quando il Santissimo è esposto non si possono fare queste cose. Cioè ci sono questi surplus di delicatezze. Il Santissimo quando si espone bisogna accendere le candele. Se si fa un'esposizione pubblica bisogna usare per forza l'incenso. Non si può fare un'esposizione senza usare l'incenso. Tanto per dire alcune cose attinenti al culto. Queste sono cose importantissime. Perché noi non stiamo davanti a Pinco Pallino quando stiamo davanti all'Eucharistia. Noi stiamo davanti a Dio in persona. In persona. quindi l'irriverenza è un peccato mortale non è un peccato veniale. Tutti questi qua sono tutti quanti i peccati mortali questi qui. Contro il primo comandamento. I peccati mortali non sono soltanto quelli del sexto. Anche se quelli sono tutti mortali. Sono pure questi. Allora, tentare Dio. Uh, tentare Dio è... Questo lo fanno tutti oggi. Tentare Dio è, come dire, metterlo alla prova. Cioè è invertire l'ordine stabilito. È Dio che ogni tanto ci mette alla prova. E ha tutto il diritto di farlo. Per vedere se avresti servito Dio sì o no. Dice il Signore quando rievoca i quarant'anni di Israele nel deserto. Dice io ti ho fatto provare la fame. E poi ti ho nutrito di manna perché tu imparassi che il Signore non vive di solo pane. E poi ti ho fatto stare tutto quel tempo nel deserto per vedere se tu avresti servito Dio e il Signore sì o no. Oppure pensiamo all'esperienza di Abramo, no? Che prova che è passata Abramo. Il famoso Padre Nostro, con quella traduzione che ci sta adesso, che veramente la lasciamo perdere. L'ho detto tante altre volte. Meisenenkes eisperasmon è un modo con cui noi chiediamo al Signore, per favore, non introdurci Meisenenkes eisperasmon nella prova. Quella non è la tentazione che diceva che non possiamo dire che Dio ci induce in tentazione perché il diavolo ci tenta al male. Questo lo sappiamo. Ma perasmon non è il termine che designa esclusivamente la tentazione. Perasmon è un test. Il diavolo ci tenta al male. Il Signore, come dire, ci mette alla prova per vedere se siamo a Lui fedeli. Ma è un test? Allora, la seconda tentazione che il diavolo fece al Signore nel deserto è quello di invertire la cosa. Non è che Dio ti mette in questa situazione e dice vediamo che fa. Vediamo se mi obbedisce o non mi obbedisce. Vediamo se mi serve o non mi serve. No, siamo noi che mettiamo Dio. Io faccio questa cosa, vediamo se tu intervieni. Buttati giù, no? Ai suoi angeli da ordine. Oh, come quando si dice se vuoi che credo in te mi devi fare questo miracolo. Se non fai questo miracolo io in te non ci credo. Questo è un esempio di tentare Dio. Oppure obbligarlo ad agire. Guido come un pazzo e chiedo al Signore, dice vabbè, ci pensi tu, io guido come un pazzo, ma tanto tu non mi fai succedere nessun incidente. Ma quando mai? Quindi Dio non si tenta e non si sfida e non si provoca. ripeto, siamo noi che siamo provati da Dio, non il contrario. Oh, poi c'è il sacrilegio o profanazione. Che cos'è un sacrilegio? È la profanazione di persona o di cosa sacra. E qui, amici cari, le persone sacre lo possiamo capire bene, no? Pensiamo oggi al tasso di riverenza proprio grossolana, io lo dico per, sono testimone oculare che c'è nei confronti dei ministri ordinati, ma di tutte le, non c'è più niente. Però figli miei, la riverenza dovuta alla persona sacra è dovuta non in vista della sua dignità, come dire, o meglio della sua meritorietà. Cioè io a quel sacerdote lo venero perché lo ritengo santo e quindi lo stimolo rispetto. Invece quello lo ritengo un gran peccatore e quindi me lo metto sotto i piedi e non lo calcolo proprio. Questo non si può fare. Perché la persona sacra non è degna di onore e di venerazione per le sue qualità soggettive, ma per il fatto che è vestita di un ufficio sacro. Non parliamo poi delle cose sacre. E qui si apre il capitolo delle comunioni sacrileghe, oggi a Gogo, delle confessioni sacrileghe, oggi a Gogo, delle cresime sacrileghe, oggi a Gogo, dei matrimoni sacrilegi, oggi a Gogo. Vogliamo fare un pochino di esempi. Rapidamente, perché ci ho fatto un ciclo di catechesi, una confessione sacrilega quando o non si confessa tutto per paura o per vergogna, o ci si confessa senza pentimento alcuno. Sacrilegio, quindi non soltanto che non sia assolti da un bel niente, ma si commette un peccato ulteriore che dovrà essere confessato nella confessione seguente, insieme agli eventuali peccati che si sono taciuti in quella confessione sacrilega. Le comunioni sacrileghe, quindi quelle fatte senza stare in stato di grazia di Dio, uff, quante ne vogliamo oggi. Io vi assicuro che è veramente un dramma pastorale. La gente non si confessa e a fare la comunione ci vanno a fiotti. E l'esperienza di un Dio, ho sempre fatto solo il parroco, ho sempre stato in cura d'animo, ho sempre parlato con una montagna di persone reali e sentito tecine di centinaia di racconti che non riesco a stargli dietro, che ho sempre il mio autotreno di mail arretrate, che è un fardello, ma non ce la faccio a gestirlo. Ma quante storie di questo genere? Non parliamo poi adesso delle irriverenze diffusissime e quasi imposte, con certi modi di accostarsi alla comunione, imposti, per ora, almeno lo Stato, momentaneamente in maniera del tutto arbitraria, perché non può essere imposto a nessuno di prendere l'ostia in mano con l'attuale legge della Chiesa, nessuno, però arrivano in continuazione lamentele di fedeli che non possono andare ad una celebrazione eucaristica e farsi la comunione in santa pace, non essendo affatto disposti a rischiare di esporre il sacramento dell'eucaristia a una possibile dispersione di frammenti, oppure a ostie che cadono, oppure a un gesto che alla coscienza ripugna come non riverente. E una coscienza ha tutto quanto il diritto di, nonostante questa cosa sia permessa dalla legislazione attuale della Chiesa, ma se una coscienza dice io, io l'eucaristia con le mani non la tocco, perché mi sembra una cosa irriverente. Ritengo opportuno che, come era un tempo, solo le mani consacrate da un sacerdote e tocchino l'eucaristia, uno ha tutto il diritto di pensarlo, senza con questo andare contro, per carità. Le autorità della Chiesa hanno deciso di fare entrare questa concessione, anche se in modo con cui è entrato c'ho scritto un articolo che è veramente un programma, li raccomando il libro, per chi vuole approfondire queste cose, del mio caro amico Don Federico Bortoli, la distribuzione della comunione solo sulla mano, che certamente è un bel tomo un po' per addetti ai lavori, ma non esiste nessun lavoro così proprio rigoroso e scientificamente inattaccabile come quel testo. Io almeno non ne conosco altri. Ma quante ce ne stanno? Com'è ridotta l'eucaristia oggi? Io continuo a sentire gente che mi dice che trova le ostie davanti agli altari, nelle chiese, buttati per terra, frammenti in continuazione, quindi gente che, ve lo dico insomma, che trova queste cose e si mette in ginocchio, si china con la faccia a terra e tira fuori la lingua sulla terra per astergere, trovando un sacerdote per astergere, per togliere dalla terra il frammento dell'eucaristia. Queste cose purtroppo oggi succedono, figli miei. Io riferisco quello che mi riferiscono. Nella mia parrocchia voglio sperare bene che non ci siano frammenti per terra, insomma, con l'attenzione che cerco di riservare a queste cose, ma questo è quello che mi riferiscono. È un dramma, è una tragedia, come viene trattata l'eucaristia oggi. È una delle cause di maggiore dolore. E a mio avviso, a modestissimo avviso, è anche una delle cause principali, per cui la situazione andante, diciamo così, nella Chiesa oggi è critica. Perché se l'eucaristia smette di essere il centro e smette di essere trattata come si deve, quella da farmaco si trasforma in veleno. Perché i peccati commessi contro l'eucaristia, detta dei Santi, Bastireggio, Salveggio, Maree, Gignota, Monforto, sono i più gravi e i meno perdonabili. Vogliamo parlare delle gresime sacrileche? Ragazzini che quasi tutti vanno a ricevere la gresima oggi, si sa come, e a volte come conciati, ben sapendo che è finita la celebrazione, diranno addio alla parrocchia, ed è un addio a tempo indeterminato. Ma che razza di gresima quello va a fare? Con queste disposizioni. E i matrimoni? I matrimoni? Una sposa che si concia, che entra in chiesa sbracciata, scollata, ma come lo chiamate quel matrimonio? Ma come te permettiti di presentarti davanti all'altare in quel modo lì? L'abito bianco, e a me mi dispiace dire queste cose, l'abito bianco significa qualcosa, cioè uno facesse pure quello che gli pare, ma noi non possiamo irridere il nostro Signore, non possiamo sfidarlo e provocarlo. L'abito bianco significa purezza e verginità. una persona deve avere la coerenza che se tu te lo puoi mettere l'abito bianco, te lo metti, se no non te lo metti. Non te lo devi mettere. Fallo pure, mettilo, poi vedrai quando li troverai dinanzi al giudizio particolare, io spero di sbagliarmi, ovviamente, vedrai quello che succede. Poi l'abito bianco, simbolo di purezza e immacolatezza, completamente scollato e completamente con la bretellina. Poi al parroco dicono, no padre, ma io ho il velo, perché il velo, quello trasparente, dovrebbe coprire queste cose qui. Ma di che vogliamo parlare? Dopo, quando si rileggono le parole di Fatima, alcuni matrimoni che non sono benedetti da Dio, che non piacciono a Dio, ma un matrimonio che nasce con questa cosa, fermo restando la sua validità, perché noi dobbiamo sempre distinguere la validità, ma se un sacerdote celebra la Messa in stato di peccato mortale, la Messa è valida, attenzione, non da reggere tutte le cretinate che si sentono dire in giro sulle Messe che non sono valide, le Messe cattoliche sono tutte valide, tutte quante, e speriamo che lo restino, fino a quando si pronunciano le parole della consagrazione, così come stanno adesso, da un prete legittimamente ordinato, la Messa è valida, chiaro? Però oltre alla validità, ci sono altri due aspetti nella dimensione sacramentale, che è la liceità, e tu non puoi celebrare la Messa se stai in stato di peccato mortale, non lo puoi fare, se lo fai, pecchi mortalmente, ma la Messa è valida, capite? Applicato al matrimonio, se tu ti presenti conciato in quel modo, tu stai peccando mortalmente, ma però lo scambio matrimoniale è valido, il matrimonio è valido, è indissolubile. E poi c'è la fruttuosità di un sacramento, perché se il sacerdote celebra la Messa con raccoglimento, con amore, con devozione, attira le grazie di Dio. Se un sacerdote celebra la Messa in 15 minuti, a 14, 13, alla Spiti Gonzales, senza nessun amore, senza nessuna devozione, con i camici alla Belfagor, e robe del genere, la Messa è valida, se non ha fatto peccati mortali, eppure recita, ma la Messa produce pochi frutti, perché il nostro Signore non è glorificato da quel modo di fare, e quindi le grazie che scendono sono meno copiose. Guardate che questa è teologia sacramentaria della Chiesa Cattolica, bisogna fare molta attenzione ad essere precisi e puntuali nei termini, quindi non scambiare, per esempio, la poca fruttuosità di una celebrazione con la sua invalidità. Prima che un sacramento sia invalido, come quando un matrimonio è nullo, ce ne vuole per dimostrarlo, la dimostrazione dovrebbe essere molto rigorosa, non troppo fatta all'acqua di rose. Il problema è il contorno, perché un sacrilegio o una profonazione di cosa sacra presuppone l'esistenza della cosa sacra, quindi la cosa sacra c'è, non è che non c'è. Se un sacramento è invalido, la cosa sacra non c'è, quindi non è stato profanato proprio un bel niente, perché la cosa sacra non c'è. Ecco, ok? I sacrilegi sono peccati gravissimi, sono peccati gravissimi. Poi c'è la simonia, o compra vendita di cose spirituali, o connesse con le cose spirituali. le cose sacre non si vendono, né quelle ordinarie, come sono i sacramenti, né tantomeno quelle straordinarie, quando ci sono. Il peccato di simonia, che appunto la compra vendita delle cose sacre, deriva da quella figura descritta negli Atti degli Apostoli, che era appunto Simon Mago, da cui simonia, che chiese agli Apostoli di vendergli la possibilità di fare miracoli. Voleva fare miracoli, pure lui dice, mo ti pago? Ma tu sei matto? Ecco. E non ci deve essere, su questo, se mi posso permettere, i sacerdoti siano sempre molto attenti, per quanto mi riguarda. Per i sacramenti, per quanto mi riguarda, ma questa è anche la volontà della Chiesa, si possono accettare soltanto offerte, non si mettono tariffe, né per i battesimi, né per le cresime, né per i matrimoni, né per i funerali, né per niente. E se non ti lasciano nessuna offerta, non fa niente. D'accordo? non è una cosa carina, non è una cosa garbata, perché la Chiesa, le parrocchie, ve lo dico perché sono parroco, almeno, cioè, io non è che vado in giro a chiedere, ma le parrocchie campano di carità. Una parrocchia non ha entrate, non ha introiti. Venite a vedere il bilancio, cioè, i bilanci sono pubblici delle parrocchie. Di che cosa campa? Campa delle offerte. L'offerta è sempre libera. Io vi dico, non ho paura di dirlo, che ci sono, tante volte, ho amministrato sacramenti del battesimo e i genitori hanno stretto la mano, grazie, arrivederci, arrivederci, pazienza. Matrimoni, arrivederci e grazie. Funerali, arrivederci e grazie. D'accordo? Ma meglio questo, piuttosto che andare a dare la parvenza, tu dici, ma tu vuoi la Chiesa d'Arte e allora te la paghi, paghi un sacco di soldi, io non sarò mai d'accordo con una cosa di questo genere qui. Perché anche se non è, in senso stretto, una vendita di un sacramento, d'accordo, perché tu, come dire, chiedi un, come dire, un compenso per la, come dire, per il fatto che quella è la Chiesa d'Arte o cose di questo genere. Tu te la vai in parrocchia tua e ti sposi quanto ti pare. Se vuoi venire dentro la Chiesa d'Arte te la paghi. Io ho molti dubbi. non ritengo una cosa buona fare così, però se qualcuno dovesse fare diversamente, certamente lo rispettiamo. I documenti della Chiesa che io conosco raccomandano non soltanto di evitare la simonia, ma anche di tenere lontano la parvenza di simonia. Così come la stessa cosa vale per le richieste di messe. il vocabolario diffuso, io lo cerco di correggerlo sempre, devo pagare la messa. Che devi fare tu? Devi pagare la messa. Dico, va bene, se viene Jeff Bezos in parrocchia e mi lascia un assegno in bianco di tutto il suo patrimonio, tutto il suo patrimonio, non ha pagato nemmeno i ritri di introduzione. Si vuole proprio pagarli. perché questa è una cosa divina, capito? Tutti i soldi della terra non pagano neanche i ritri di introduzione della messa, che tra l'altro non si paga. L'offerta è un'elemosina, peraltro l'offerta della messa, perché lo sappiate, può essere amministrata liberamente dal sacerdote celebrante. Io dico, penso che sia bene che i fedeli sappiano queste cose, perché non sono misteri. Quando uno è parroco, dentro una parrocchia, tutte le cose che fa, va a benedire le case, celebra il funerale, tutte le offerte che riceve, tutte, vanno tutte nella cassa della parrocchia. Tranne le intenzioni di messa. Nel senso che quelle, il parroco le può mettere nella cassa della parrocchia, ma decide lui, può usarle per i poveri, può metterle nelle cassa della parrocchia, può usarle per far celebrare altre messe, e se avesse necessità, può anche trattenerle per sé. Solo le offerte delle messe. Ma è un'offerta. E come la Chiesa raccomanda, se un parrocchiano specialmente povero chiede una messa e non lascia l'offerta, non c'è nessunissimo problema. La messa si celebra lo stesso. Credo che sia importante dire queste cose, no? tenete anche presente che io questo lo dico molte persone anche a me chiedono di far celebrare messe, perché allora, per farvi capire, se un sacerdote non ha un incarico come lo ho io, canonico, quindi non è parroco, non è professore in qualche facoltà teologica, non lo so che altri incarici stanno in giro, non lavora in Vaticano, non lo so, quindi che ha un incarico canonico da cui gli deriva una certa remunerazione che la Chiesa stessa attraverso il suo ecosistema di redistribuzione gli somministra, un prete non c'è niente per campare, per cui se un sacerdote per esempio sta studiando, sta facendo il dottorato, viene dall'India, sta facendo il dottorato a Roma, quello non ha di cosa campare, chiaro, a meno che papà e la mamma non gli mandano qualcosa, e di cosa campa? Campa delle offerte, delle messe che gli chiedono, a me che mi arrivano un autotreno di intenzioni di messe in continuazione, che sto sempre andando in giro, fortuna che ho diversi amici che si trovano in queste condizioni, sacerdoti, io in continuazione gli giro intenzioni di messe, perché io ce n'ho una maranga, ma questi ci campano quelle cose lì, e poi mi ringraziano perché, dico, ma che mi ringrazio, tu mi fai un favore che io queste cose qua non so, non so, non so chi farle celebrare, voi sapete che un sacerdote, facciamo stasera proprio istruzioni canoniche, se un sacerdote riceve un'intenzione di messa con l'offerta corredata, è tenuto sotto obbligo grave di giustizia di soddisfare a quella richiesta di messa commessa singola, non cumulata con altre intenzioni, entro un anno dalla ricezione dell'offerta e se non riesce a farlo personalmente deve farlo fare ad altro sacerdote girandogli l'offerta e assicurandosi che l'altro sacerdote assolva a quella intenzione come messa singola. Queste sono tutte norme della Chiesa, eh? E chi non le osserva trasgredisce le norme della Chiesa su questa materia. Uno dei motivi per cui non è l'unico, il motivo per cui le messe cumulative sono proibite e sono consentite secondo un antico documento della congregazione del clero dell'82 dell'83 adesso non mi ricordo l'anno ma se uno va su internet basta che cerca sul motore di ricerca messe collettive se lo va a leggere quando è che sono consentite le messe plurintenzionate solo nei casi in cui in una parrocchia per esempio ci sia una richiesta di intenzione di messe superiore al numero delle messe celebrate faccio un esempio se nella parrocchia si servono 30 messe al mese quindi se ne serve una al giorno e io ho 80 persone che mi chiedono una messa non posso soddisfarle tutte allora in caso di questo genere si legge quel documento il sacerdotore deve scegliere due giorni a settimana dando comunicazione ai fedeli e avvertendo che in quei giorni si possono prendere messe intenzioni cumulate solo a queste condizioni è evidente che la cosa ideale questo non c'è scritto nel documento ma lo aggiungo io è che se io un giorno ho quattro intenzioni di messe allora la messa la celebro nominandole tutte al signore gli dico questa messa applicala però per uno e le altre tre che io comunque ho nominato perché i fedeli hanno chiesto di nominarle in quella celebrazione che li ho comunque ricordati al signore ma le faccio ricelebrare girandogli l'offerta così questi hanno una messa come Dio comanda questa è cosa molto molto lodevole è un di più ma che si può fare tutte norme della chiesa queste qui voi capite che se uno se in una parrocchia ci stanno venti intenzioni di messe al giorno parte il fatto che è una cosa che il frutto della messa quel frutto particolare che è di proprietà del sacerdote celebrante che è appunto l'applicazione della messa non può essere frazionato trattandosi di un atto limitato e finito ecco perché deve essere applicato con una sola intenzione ma a prescindere da questo aspetto che è molto importante per cui cioè voi capite che se io dovessi cosa che non si può fare applicare alla messa per cinque intenzioni differenti voi capite che questo non è un gioco perché quando io applico la messa per un'anima del purgatorio se quella sta in purgatorio o con l'applicazione della messa questo non è uno scherzo perché vengono diminuiti considerevolmente sia l'intensità delle sofferenze del purgatorio che il tempo di permanenza capite se io di defunti ce ne ho cinque non pensate affatto che sia la stessa cosa che se io l'ho celebrata per uno non lo è quindi è un danno anzitutto per le anime ma poi c'è anche il problema della parvenza di simonia perché se tu hai venti intenzioni di messe tu ti prendi venti intenzioni di messe che ci fa con tutti quei soldi supponiamo che la conferenza episcopale ha stabilito che l'offerta normale per una messa sono 10 euro ma a volte i fedeli lasciano di più ne lasciano pure 20 ne lasciano pure 30 supponiamo che tutti quanti su venti intenzioni ti lasciano 10 euro sono 200 euro in un giorno e se lo fai tutti i giorni in un mese quanti soldi sono tanti no? ecco per capite il discorso della simonia noi cioè io credo che dobbiamo tutti quanti noi ecclesiastici dare testimonianza del fatto che la provvidenza esiste certamente le parrocchie hanno delle spese certamente esiste una norma della chiesa nei 5 percetti generali che impone ai fedeli di contribuire con le proprie necessità al bene della chiesa ma questo deve essere sempre fatto su base volontaria senza avere paura perché la provvidenza esiste io sono convintissimo che il nostro signore le parrocchie in bancarotta non ce le manda evidentemente a condizione che si faccia una gestione intelligente e oculata del patrimonio perché si sta un pazzo che sperpera tutto il patrimonio e che è certo che per bancarotta ma non succede niente non succede la mia esperienza personale è che Dio ha sempre provveduto sempre sempre a tutto quello che era necessario giusto e buono da fare per la chiesa per la parrocchia senza nessun problema senza mai dover chiedere niente a nessuno senza mai dare l'impressione che uno voglia prendere i soldi o peggio ancora che faccia che dia anche solo il sospetto che si possa pensare a qualche sorta di mercificazione delle cose spirituali o connesse con le spirituali queste cose non si devono fare vediamo un po' che forse mi sa che è meglio fermarci perché poi qui i tempi sono arrivati forse è meglio mettere mettere punto ci portiamo a casa l'impietà la superstizione e l'irreligiosità insomma che sono credo materie abbastanza delicate che ci hanno fatto ci hanno dato modo di di riflettere un po' credo e spero appuntamento alla prossima puntata amici e Dio vi benedica e la Madonna vi protegga